Cosa fa la regione toscana per la lotta contro il fumo come causa di 6.000 morti all'anno attraverso malattie, tumori e non tumorali, cardiovascolari, eccetera. Ora, immaginiamo di avere un condominio di più piani che rappresenta la popolazione della regione toscana. Immaginiamo che un camion cisterna, non si sa chi l'abbia chiamato o chi l'abbia fatto arrivare, abbia collegato attraverso un tubo all'imbocco di una presa d'aria del condizionamento di tutto il condominio, abbia collegato un tubo attraverso il quale questo camion spinge dei gas nocivi dentro all'impianto di condizionamento, quindi all'aria condizionata e quindi va a finire in tutti gli appartamenti di questo condominio. Il direttore di questo condominio, la regione toscana, deve far fronte a questo problema. Ecco, normalmente il direttore di un condominio che si trovasse in queste condizioni chiamerebbe le autorità e farebbe mettere in galera il signore e eliminerebbe la causa del problema dell'intossicazione degli inquilini del proprio condominio. Invece no, cosa fa la regione toscana? Dice, ma sai cosa facciamo? Facciamo qui un'unità di crisi, questo inquilino si occupa dell'esplorazione, del controllo della situazione di salute degli altri inquilini nei confronti di questo problema. A questo inquilino affidiamo il compito di raccogliere tutti quelli che si sentono male e di ospitarli a questo piano. Ecco, questo piano è dedicato a ospitare tutti quelli che si sentono male. A questo inquilino affidiamo il compito di aiutare quelli che respirano l'aria intossicata da questi gas ad apprendere una tecnica di respirazione che gli impedisca di respirare una quantità eccessiva. A quest'altro inquilino affidiamo il compito di inventare un antidoto da somministrare a pagamento a tutti gli inquilini del condominio. A quest'altro inquilino affidiamo il compito di trasportare al penultimo piano tutti quelli che si sentono male. Tutti questi inquilini che vengono commissionati di questi compiti vengono pagati dall'amministrazione del condominio per svolgere questi vari compiti. Ma a nessuno viene in mente di chiamare l'autorità e di far rimuovere il camion che produce questo problema nel condominio. non solo. Ma a nessuno viene in mente di scendere, uscire dal portone tutti insieme in massa, andare dal signore che sta facendo questo guaio e sistemarlo in qualche modo, oltre a spengere la pompa che sta pompando il tossico nella circuito d'aria condizionata del condominio. Ecco, questo è quello che sta facendo la regione toscana nei confronti del fumo. 6.000 morti all'anno vengono accettati come un dato inevitabile, mentre invece sarebbe evitabile. Basterebbe rimuovere il camion e chiudere il tubo. Se non è chiaro così, non so più come spiegarlo.